Funzionari in arrivo e altri in partenza alla questura di Caltanissetta. A seguito degli avvicentamenti disposti dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, quattro nuovi funzionari sono giunti lunedì 9 gennaio negli uffici della Polizia. Si tratta di Teofilo Belviso, 56 anni, di origini salernitane, promosso a primo dirigente a maggio che dopo aver diretto l'ufficio immigrazione alla questura di Siracusa, ora si occuperà della guida della divisione Polizia Anticrimine, sostituendo così il vicequestore aggiunto Massimiliano Santoro, trasferito a Milano. A sostituire il commissario capo Laura Romano Agela, trasferita a Catania, sarà il vicequestore aggiunto Domenico De Maio, 46 anni, proveniente dalla questura di Ragusa. Un ritorno per lui al commissariato di pubblica sicurezza della città del Golfo dopo 5 anni, dove era stato dal 2002 al 2012. In arrivo anche i commissari capo Nicolò Claudio Donato Cicero, di 31 anni, e Guglielmo Lamagna, di 37 anni, entrambi provenienti dal 105esimo corso per funzionari della Polizia di Stato, che dopo un breve periodo di tirocinio negli uffici della questura di Caltanissetta, saranno definitivamente assegnati dal questore Bruno Megale a specifici incarichi nel capoluogo in provincia. A lasciare la questura anche i commissari capo Giuseppe Pitarresi, trasferito a Palermo, e Gabriella Giardina, trasferita a Roma. A prendere il posto dell'ex comandante della Polizia Stradale, Maria Grazia Milli, il vicequestore Marcello Arcidiacono.